Ed eccoci quindi in questa breve descrizione video dei quattro servizi che abbiamo elencato quindi Dropbox, Mecha Cloud, Box e nuovi servizi Logmin Cabby andremo a vedere una panoramica veramente molto veloce dei vari servizi sia su Mac OS X che sull'applicazione per dispositivi iOS e nello specifico lo vedremo su iPad il suo iPad ovviamente per una maggiore superficie visiva rispetto all'iPhone ma le applicazioni poi dopo fanno esattamente la stessa identica cosa l'interfaccia è più o meno uguale come spesso accade quindi passiamo a questo punto a vedere i quattro software e partiamo con Dropbox partiamo quindi velocemente con Dropbox come vedete già agganciato questa è la sua icona che si troverà sempre all'interno della barra delle applicazioni della quale possiamo andare ad aprire la cartella, il locale, avviare la pagina web poi ovviamente la possibilità di acquistare maggior spazio a pagamento bloccare la sincronizzazione ovviamente il pannello delle preferenze non ce ne sono particolari e particolarmente difficili da capire quindi l'aggancio per le notifiche avviarlo al momento in cui avviamo il nostro Mac e quanto altro ovviamente le credenziali la gestione del network quindi la possibilità di limitare la banda se non abbiamo una linea dati molto veloci e ovviamente la cartella di riferimento andiamo a vedere velocemente la cartella di riferimento ecco qui come potete vedere ci sono già abbastanza all'interno di questa cartella questa cartella verrà praticamente sincronizzata non appena noi avviamo una qualsiasi delle applicazioni quindi spostiamo qui un file questo verrà fatto l'upload sul nostro componente web e successivamente poi sincronizzata con tutte le applicazioni come sappiamo su Mac possiamo mettere qualsiasi tipo di file al contrario dell'iPad che ovviamente è usato sull'iPhone potrà essere caricato soltanto immagini da rullino fotografico a meno che non si utilizzano applicazioni terze che permettono il salvataggio su Dropbox andiamo a vedere velocemente anche la componente web quindi andiamo sul sito ufficiale per vedere le funzioni che vengono messe a disposizione ovviamente dalla società che fornisce i nostri servizi appunto di sincronizzazione come dovete vedere ecco qui che anche qui ritroviamo gli stessi file alla fine del nostro... che vediamo sulla cartella con i pulsanti per effettuare un upload ad aggiungere una cartella effettuare una... come dire... uno sharing dei file e quant'altro anche qui poi dopo possiamo andare a visualizzare tutti gli eventi che ci sono avuti vari link che abbiamo scelato e quanto altro molto interessante la funzione Dropbox che può condividere con altre persone direttamente una cartella in comune questo consentirebbe praticamente uno scambio diretto tra due persone basterà ovviamente inserirlo all'interno di questa cartella condivisa tra due o più persone immaginiamo di lavorare in gruppo tutti quanti hanno Dropbox basterà creare quindi una cartella chiamiamola così virtuale che comunque sarebbe fisica poi dopo sul disco del nostro Mac e i vari utenti potranno inserire da sopra i file che devono condividere modificarli, salvarli e quanto altro questa è la parte ovviamente della parte web di Dropbox e che quindi è più o meno simile a quello che poi dopo accade anche con in locale tramite l'applicazione quello che riguarda ovviamente le sue funzionalità passiamo quindi a vedere Dropbox quello che riguarda iPad e poi passiamo ovviamente agli altri passiamo quindi a vedere la relativa applicazione Dropbox per quello che riguarda la versione per iPad ma è uguale anche su iPhone come potete vedere qui abbiamo l'elenco di tutti i file che sono presenti nella nostra cartella condivisa alcune sono di altre applicazioni che utilizzano Dropbox per la sincronizzazione come per esempio Agile Password che è OnePassword il famoso applicativo per gestire tutte le nostre chiavi e quanto altro è in grado ovviamente di aprire determinate applicazioni ovviamente qui abbiamo semplicemente un documento di prova con TXT normalissimo abbiamo ovviamente la possibilità di inviare link per email quindi automaticamente poi condividerlo con la persona che lo riceverà oppure copiare il link e poi decidere cosa farle aggiungerlo tra i preferiti oppure andarlo ad aprire in altre applicazioni in questo caso me lo riconosce come Evernote riddle doc e quanto altro nella parte bassa ovviamente andremo a ritrovare di nuovo i favoriti che noi abbiamo inserito la possibilità di andare a fare l'upload di foto e video come vi dicevo per disposizione Apple ovviamente non possiamo fare altro quindi potremmo andare tranquillamente ad accedere alle varie gallerie che sono presenti sul nostro pad e poi effettuarne il vario upload qui abbiamo ovviamente un repilogo per quello che riguarda la nostra applicazione abbiamo la possibilità di permettere di caricare i video oppure no ovviamente per motivi di privacy sono state modifiche ecco qui abbiamo ovviamente iOS 6 quindi aumentare anche la possibilità di sicurezza secondo le nuove disposizioni di Apple e la possibilità ovviamente per chi ha iPhone barra iPad con connessione dati sia utilizzare la connessione dati o soltanto quella wifi nonché potremmo anche andare a decidere di inserire un codice di blocco all'avvio di Dropbox stesso quindi come potete vedere eccolo qui che sta effettuando la scansione delle varie immagini presenti sul nostro iPad dove poi dopo permetterci ovviamente di effettuare l'upload semplicemente effettuando ovviamente tap e poi dopo scegliendo le varie applicazioni come vi dicevo questa è l'applicazione per quello che riguarda la versione di Dropbox potremmo andare ovviamente ad aprire vari documenti ma per forza di cose non è in grado di andare a modificarlo quindi avevo comunque bisogno di una applicazione terza parte per poterlo aprire quindi documenti per esempio Apple tramite la suite di iWork e quanto altro questa è l'applicazione per iPad ovviamente c'è anche la sua controparte per iPhone eccoci qui quindi a vedere velocemente Box il servizio di Box su Mac al contrario delle altre applicazioni Box non ha una sua applicazione nativa per Mac da poter installare quindi non utilizza cartelle condivise ma utilizzerà tutto tramite spazio web quindi andiamo velocemente a vedere questa qua è ovviamente la mia pagina diciamo così personale dove ci sono i vari file sulla destra ovviamente abbiamo la possibilità delle varie funzioni quindi creare nuove cartelle condividere file aggiungere le varie applicazioni che sono messe a disposizione la parte alta abbiamo ovviamente la possibilità di effettuare un upload singolo o multiplo in base alle nostre esigenze creare una nuova cartella e poi tramite l'applicazione nativa la possibilità di creare anche dei nuovi documenti o modificarli direttamente dallo spazio web questa funzionalità non viene offerta dagli altri applicativi per cui non possiamo andare a modificare direttamente da web i vari testi ma soprattutto ci permette come potete vedere tramite questa version 2 version 2 v2 di mantenere una storia delle modifiche effettuate e quindi poi dopo andarle a riprendere per esempio le vecchie versioni e riutilizzare quelle che box.com ha mantenuto all'interno dei diciamo dei suoi archivi online come potete vedere abbiamo la possibilità di andare a fare il download chiaramente caricare eventualmente una nuova versione un'anteprima ma non solo possiamo come potete vedere anche editare i vari documenti direttamente online ma non solo documenti ovviamente di testo ma un documento google ovviamente dovremmo agganciare il nostro account google quindi gmail o quello che sia documenti word powerpoint e quanto altro scusate questo è molto diciamo è molto utile appunto la storia di modificare questi file direttamente online perché poi dopo saranno automaticamente aggiornati anche su tutti gli altri dispositivi come vi dicevo non c'è per il momento un'applicazione c'è un'applicazione per la sync ma è soltanto per utenti a pagamento quindi una versione free questo è un limite rispetto agli altri applicativi che consenso una sincronizzazione tramite queste cartelle agganciate allo spazio web ma al contempo ci permette di editare i file che di crearli e poi la possibilità come vi dicevo di avere le varie storie dei documenti quando vengono modificati è sicuramente quello che al momento dà maggior spazio perché tramite le offerte sono riuscite ad arrivare a 50 giga quando diede la possibilità di scaricare l'applicazione e il regalo da 50 giga quindi comunque una buona possibilità poi dopo per altre offerte per creare comunque per aumentare il proprio spazio passiamo adesso a vedere anche l'applicazione di box per quello che riguarda il nostro ipad quindi a vedere box questa come dicevo è l'applicazione che forse ci dà più spazio fra tutti quanti questa è la schermata principale in cui abbiamo ovviamente l'elenco dei file abbiamo gli aggiornamenti ovvero le varie successioni dei file che vengono modificati e qui ci dice quelli che sono stati modificati o aggiunti nell'ultimo periodo quelli ovviamente contrassegnati come preferiti e il pulsante di ricerca per quanto riguarda le altre impostazioni abbiamo la possibilità di aggiungere appunto immagini direttamente dal ruino fotografico oppure scattandole immediatamente oppure grazie all'aggancio con altre applicazioni la possibilità come potete vedere di creare un documento google in caso di cloud on o comunque office e poi dopo portare direttamente su ibox oppure altre applicazioni che permettano la creazione di file che appunto supportino poi l'aprint tramite il box andiamo quindi a vedere velocemente un file qualsiasi prendiamo questo xls potete vedere sempre un documento semplicissimo senza nulla di particolare ecco qui che si attiva le varie funzioni possibilità ovviamente di andare ad inserire dei commenti inserire all'interno dei preferiti e molto interessante la possibilità ovviamente di andare ad editare il file tramite altre applicazioni che lo consentono e poi dopo riportarlo all'interno di box con la nuova versione modificata l'ultimo pulsante ovviamente dà la possibilità di rinominare il file di condividerlo e quanto altro questi ovviamente sono i nostri file qui potremmo andare di nuovo ad aggiungere sempre anche da questo menu e poi dopo le varie impostazioni anche in questo caso abbiamo la possibilità di decidere se inviare oppure no i file tramite rete cellulare oppure no nel pulsante gestisce ovviamente avremo la possibilità di andare ad inserirlo all'interno dei preferiti oppure no come è forse questa è l'applicazione per l'editing dei file che meglio si aggancia con altre applicazioni proprio perché consente di editare i nostri file direttamente da un'applicazione terza per poi dopo riportarla su box senza quindi fare 200 miliardi di passaggi per poi dopo porta qui porta là e quindi fa tutto in automatico per quello che riguarda la nostra applicazione questa è la parte per ipad ovviamente è un'applicazione di universal quindi installabile anche su su iphone passiamo a questo terzo servizio di megcloud.com da non confondere con megcloud.it che forniva backup online gradualmente anche in questo caso come dropbox megcloud ci permette di scaricare un'applicazione per me che si andrà da appoggiare nella barra in alto della menu barra del nostro mac nonché va anche a creare in locale eccola qui come potete vedere una cartella di riferimento da qui potremmo quindi andare a modificare qualsiasi tipo di file direttamente da mac e poi dopo verrà effettuata una sincronizzazione automatica così come potremo andare ad aggiungere rimuovere i file a questo punto verranno rimosse da tutti i dispositivi agganciati a questa applicazione andiamo quindi a vedere velocemente il menu open megacloud ovviamente andrà ad aprire la cartella di riferimento possibilità ovviamente di aumentare lo spazio anche in questo caso firmare la sincronizzazione qualche piccola opzione che non è particolarmente indichiaria perché a parte lo stato dell'account con quanto spazio abbiamo occupato anche qui abbiamo la possibilità di lanciarlo al login notifiche possibilità di utilizzare anziché l'icona a colore bianco e nero ovviamente possibilità di limitare la velocità di banda e il consumo della banda e ovviamente la cartella su cui deve sincronizzarsi il megacloud per la parte web andiamo a vedere piuttosto la parte web come vi dicevo eccola qui questa è la nostra in cui abbiamo la possibilità di andare a compiere determinate operazioni per quello che riguarda i vari documenti abbiamo la possibilità ovviamente di inviare via email aggiungere dei tag molto interessante la possibilità di inserire dei commenti quindi se dovessimo ad esempio effettuare uno sharing di file di foto video quello che sia potremmo inserire dei commenti e anche rispondere ad altri commenti delle persone che hanno la possibilità di visualizzare questo documento o foto o video che sia e poi ovviamente non poteva mancare il pulsante di share questo è ovvio nella parte alta abbiamo ovviamente la possibilità di creare nuove cartelle di ordinarne in base a vari criteri e modificare anche la visualizzazione all'interno appunto dell'area web pulsante di upload ovviamente per caricare i nuovi file come potete vedere qui ci sono i vari step per aumentare il proprio spazio web fino ad un massimo di 10 giga appunto tramite i vari step da completare perché ne danno 500 mega a ogni singolo step quindi installare l'applicazione ci darà 500 mega agganciare con facebook altri 500 twitter altri 500 quindi comunque come dire veramente tante tante opzioni più come potete notare 3 giga per ogni applicazione mobile che andiamo a scaricare quindi immaginate io ho tre dispositivi ios quindi iphone ipod touch e ipad questo vuol dire che io ho preso 9 giga di spazio gratis appunto per i vari o sei non ricordo adesso se ho canciato su tutti i tre dispositivi io ho comunque 3 giga per ogni singolo ios quindi tre dispositivi ios per lo stesso account e a questo punto mi da 3 giga per ogni singolo device ovviamente area personale per quello che riguarda la sua registrazione backup purtroppo il backup non è possibile effettuarlo in ambito mac questo è un grosso limite quindi potremmo effettuare soltanto lo sharing dei dei file questa è la parte ovviamente per il mac passiamo adesso a vedere la sua controparte su ipad vediamo ora il servizio offerto da megacloud.com non .it come già vi è stato detto andiamo quindi ad aprirlo questa è ovviamente la spazio screen ed ecco qui che abbiamo una sezione divisa in due sulla parte sinistra ovviamente tutti i file sincronizzati sulla parte destra diciamo fin quando andiamo a selezionare un file abbiamo la loro pubblicità in cui ci indica quali sono le piattaforme supportate parte sinistra abbiamo detto abbiamo le varie impostazioni per quello che riguarda i file possibilità ovviamente di andare a approdare i file in questo caso possiamo andare a creare anche un file txc e poi dopo caricarlo sul nostro spazio web ma nulla più gestione ovviamente dei file favoriti possibilità di andare a effettuare lo sharing delle nostre cartelle o dei nostri file di quelli che ci sono stati fatti ovviamente richieste e poi dopo i vari settings come vedete c'è anche la possibilità di condividere tramite twitter tramite facebook i vari tutorial lo spazio utilizzato e quanto altro andiamo ad aprire velocemente un documento eccolo qui come vedete questo è il documento sulla parte alta abbiamo a disposizione le varie opzioni che sono praticamente condivisione tramite facebook twitter e poi comunque tramite link sia email oppure un classico copia in colla la possibilità di andarlo ad aprire tramite altre applicazioni quindi box come abbiamo visto prima e per note e quanto altro il terzo pulsante serve per andare ad inserire all'interno dei favoriti il file in questione e mentre l'ultimo pulsante serve semplicemente per andare a rimuovere il file stesso operazione che comunque potrà essere anche effettuata come potete vedere anche andando a selezionare sulla parte sinistra e si andrà ad attivare il relativo pulsante sia per la cancellazione che per l'add all'interno dei file favoriti veramente come potete vedere l'applicazione anch'essa comunque è abbastanza veloce anche nel nel reperire i dati anche se ovviamente poi dipende molto dalla rete dati che stiamo usando al contrario delle altre applicazioni questa di megacloud non consente di decidere se inviare o scaricare file anche sotto rete dati quindi direttamente in 3G quindi potrebbe essere un limite per chi non vuole consumare comunque troppi dati è comunque un'ottima applicazione quello che riguarda lo sharing dei file passiamo quindi a questo punto a vedere l'ultima applicazione che è quella di di cabbie quindi all'ultimo software di questo articolo come poter effettuare simplicazioni tra i vari dispositivi parliamo di un servizio ancora in fase beta quindi comunque andiamo su invito da parte della società abbiamo deciso come già specificato di dimostrarvelo anche se ancora veramente molto allo stato abbrato semplicemente perché è il servizio di LogMeIn quindi nota società per le connessioni in desktop e in modo quindi abbiamo deciso comunque di fornire una breve visione di questa applicazione anche essa funziona bene o male come Dropbox e come Mega Cloud quindi icona nel System 3 con una cartella in locale che permette la sincronizzazione tra la parte web e tutti gli altri dispositivi e un piccolo menu quindi OpenCub ovviamente andrà ad aprire l'applicazione che veramente dà pochissime opzioni perché ci dà la possibilità di sincronizzazione con i vari amici con i vari dispositivi siamo obblighi e fissi sincronizzarci ovviamente quindi con con gli altri utenti ma al momento non ve ne sono interrompere ovviamente mandare i link e disabilitarli ovviamente tramite poi dopo check o non check della diciamo della funzione in questo caso per un public link per disponibile quindi tutti quanti o poi ovviamente la rimozione della cartella come potete vedere il percorso è in locale da qui non possiamo andare a fare null'altro se non qualche scusate torniamo qui qualche gestione delle delle preferenze quindi l'account utilizzare growl eventualmente utilizzare un proxy se occorre quanto riguarda invece la cartella in locale eccolo qui open and cab my cab quindi un doppio menu per applicazione e la cartella in locale come vi dicevo funziona esattamente come in my cloud e come in dropbox come potete vedere anche dall'elenco delle cartelle preferite quindi una cartella in locale che servirà da sharing nel nostro account tra i vari dispositivi parte web sicuramente un po' più completa rispetto a questa applicazione abbiamo a disposizione man mano che passa il tempo adesso 4 inviti 2 ne ho già consumati quindi siamo a 6 e abbiamo ovviamente le varie file le varie cartelle da poter andare a condividere con i nostri amici quindi tramite un public link scaricarlo oppure inviare ovviamente il link stesso ai nostri a chi ha già la possibilità di utilizzare cab come vi dicevo è una versione beta quindi sicuramente ancora molto molto di strada deve farne per poter diventare un servizio che funzioni effettivamente come tutti gli altri ma considerando comunque chi c'è dietro non ho problemi a pensare che quando finalmente sarà disponibile al pubblico avrà interfacce migliori e maggiori funzioni vediamo comunque anche per quest'ultima applicazione della sua controparte per ipad e l'ultima che adesso andiamo a vedere quella di di cabbi ovviamente anche in questo caso stiamo parlando di un'applicazione beta che funziona solo tramite invito ecco qui schermata principale con la famosa cartella di riferimento a cui siamo agganciati sul nostro mac i file che sono stati salvati in locale per una consultazione offline pulsante ovviamente di ricerca e il pulsante per quello che riguarda la gestione del nostro account ovviamente qui abbiamo l'informazione della cartella quindi siconizzati con due computer e nessun file condiviso con nessuna persona possibilità ovviamente di inviare il public link quindi un link per tutti quanti senza bisogno di registrazione e poi la possibilità ovviamente di salvare i file come abbiamo detto in locale per evitare poi dopo di essere connessi ogni volta sul nostro alla nostra rete dati stesse cartelle che troviamo sia sul mac che sulla parte online pulsante ovviamente per poter andare a consultare la libreria fotografica o scattare una foto e poi condividerla ed inserirla all'interno del nostro spazio web nonché come sempre pulsante informazioni per quello che riguarda dimensioni invio del file e salvaggio offline c'è ovviamente una guida per quello che riguarda un cabbi eccola qui che potremmo anche utilizzarla come diciamo appunto documento di prova per quello che riguarda appunto l'apertura dei vari file come potete vedere è abbastanza veloce anche nel recupero dei dati e nell'apertura quindi non ci possiamo nemmeno lamentare da questo punto di vista scusate ovviamente è ancora in fase beta quindi comunque per chi volesse provare utilizzarla dovrà scaricare l'applicazione e richiederne l'invito tramite di esse e aspettare che ovviamente venga accordato da parte della società stessa non so se al momento hanno già chiuso gli inviti o se ancora c'è la possibilità di richiederlo altrimenti ovviamente c'è soltanto la possibilità che qualcun altro lo abbia e vi inviti a partecipare ovviamente a questo periodo di beta testing pubblico per vedere insomma problemi e funzionalità che gli utenti richiedono nella possibilità appunto di avere file ovunque detto questo possiamo anche chiudere questa rapida video diciamo video review anche se il tema non è corretto derivare applicazioni per la sincronizzazione dei nostri altri tra i vari dispositivi mac e ios inscritti inscritti